Oggi insieme a Raffaele e Gaito andremo ad esplorare quali sono i quattro vantaggi di strumenti di intelligenza artificiale generativa. Il primo più immediato vantaggio è quello dell'efficienza. Questi strumenti ci permettono cioè di fare molte più cose in minor tempo rispetto a quanto facevamo in passato e ovviamente questo porta con sé anche una riduzione dei costi. Oggi con pochi dollari al mese riusciamo ad acquistare questi prodotti che davvero aumentano di molto la nostra efficienza e potenziano le nostre capacità. E il secondo vantaggio che potrebbe sembrare controintuitivo invece riguarda la creatività perché se c'è una cosa che ormai è chiara a tutti quanti è che l'intelligenza artificiale generativa potenzia, aumenta la nostra creatività. All'inizio qualcuno si preoccupava che fosse il contrario, in realtà abbiamo visto che è esattamente questo che succede, cioè che ci rende più creativi. Perché? Perché la creatività non è qualcosa che possiamo avere a chiamata come un rubinetto e quindi ci sono dei momenti nei quali magari ci blocchiamo di fronte a una cosa, nel bel mezzo di un brainstorming, di un'attività con il nostro team, oppure per chi lavora da solo a un momento no nel quale vede tutto nero e non vengono delle idee. Ecco, in momenti come quelli appoggiarsi degli strumenti di intelligenza artificiale generativa può essere un ottimo stimolo per far accendere quella lampadina e iniziare a generare delle idee. Ovviamente non va a sostituirsi alla nostra di creatività, al nostro di cervello, ma ci aiuta a dare quella piccola scintilla, quella piccola spintarella e poi il resto lo facciamo noi. Il terzo vantaggio è che questi strumenti di intelligenza artificiale generativa sono particolarmente adatti per chi ha una piccola attività imprenditoriale, per il libero professionista, per coloro che non hanno dietro di loro dei grandi team di lavoro. Questo perché questi strumenti sono pensati per essere utilizzati molto facilmente, quindi permetterci delle capacità che non abbiamo di fatto innate e comunque non abbiamo nella nostra azienda. Strumenti che ci permettono di generare immagini semplicemente partendo da testo, da una descrizione testuale o delle musiche o anche dei video. Tutte capacità che magari non avremmo, non ritroveremmo in una sola persona che oggi è possibile fare, è possibile compiere, quindi senza avere un team a disposizione. E il quarto e ultimo vantaggio, in un certo senso, mette insieme tutto quello che abbiamo detto fino ad ora all'interno di questo video ed è il tema della competitività, perché effettivamente utilizzare l'intelligenza artificiale generativa è un vantaggio competitivo. Perché? Perché ci permette di reagire più velocemente ai cambiamenti del mercato. E questo vale soprattutto per quelle realtà che, come diceva Incenzo poco fa, non hanno grossi budget e grossi team. Quindi i piccolini, i professionisti, le startup, le PMI, le microimprese. Ecco, in questo scenario odierno, grazie a questi strumenti, grazie a queste tecnologie, sono in grado di reagire velocemente, mettere più velocemente sul mercato dei prodotti e dei servizi e soprattutto testare di più e testare più velocemente. E noi sappiamo che testare, sperimentare è la chiave dell'innovazione, di un aspetto fondamentale per tutti i business, piccoli o grandi che siano. Tutte queste cose, io e Vincenzo le abbiamo descritte in super dettaglio nella nostra Masterclass IA pratica, il link è qui sotto in descrizione. E quindi se vi interessa capire in che modo utilizzare l'IA generativa all'interno del vostro business, che sia piccolino o che sia grande, che sia innovativo oppure che sia più tradizionale, questa è la Masterclass che fa per voi. Il link è qui sotto in descrizione, vi aspettiamo dentro.